Io non lo so, sono venuto a chiedervi di votare per l'amor di Dio perché è l'ultima cosa che dovrei fare. Ci sono, sono di Genova, abito qua, il mio modo di volervi bene è stare qua. E io spero vivamente che non vinca lui, perché se dovesse vincere lui io so cosa succederà. Sarete tutti davanti al mio cancello a Sant'Illario a rompermi i coglioni a me, lo so.